40 anni di musica dal 1982, ma non solo, ma questo è il concerto dell'Epifania che permette al coro San Carlo di ripresentarsi alla città dopo aver purtroppo saltato l'edizione 2021. E quindi quest'anno la festa è doppia, diciamo, perché ritornare a offrire alla città di Pesaro il concerto dell'Epifania per il coro San Carlo è sempre stato un grande onore, un grande piacere, insomma, ritrovare il proprio pubblico. Naturalmente da parte nostra l'impegno è stato di fatto da settembre di ricominciare con tanta anche resilienza, tanta, come dire, convenzione, no? Che la musica a volte anche ci permette di coltivare la bellezza in un momento così particolare che viviamo. Quindi l'impegno di crederci fino in fondo, no? E naturalmente non potremmo essere arrivati a questo punto senza naturalmente anche l'intervento di chi ci sostiene. Quindi Otti Cacciaroni, la Banca di Pesaro e tutti noi, tutto il nostro consiglio direttivo e tutti quelli che nel coro San Carlo tenacemente, prova dopo prova, insomma, hanno continuato a lavorare con tanta determinazione. Un evento che la banca è stato subito sponsorizzato, è stato avvicino all'evento in quanto le persone che l'organizzano sono veramente persone importanti, persone serie, che si impegnano forse in un settore più colpito dalla pandemia. Speriamo che questo sia di auspicio e soprattutto di buon anno, un 2022 più sereno e con un entusiasmo in più da parte delle persone. Quindi sarà, come dire, in un certo senso, in una prima parte, un the best of quasi, no? Quindi il meglio del meglio abbiamo preso del nostro repertorio, sia più classico, quindi con tante pagine anche note, ma anche sempre con tante pagine originali, ossia musiche che per la prima volta verranno eseguite a Pesaro, di autori di varie epoche. E quindi non mancherà naturalmente un primo omaggio a Rossini, poi ancora Mozart e poi via via, arrivando verso pagine anche più elaborate, più difficili, qualche tocco anche di opera lirica. Il coro San Carlo, già da tantissimi anni, è diretto dalla Bacchetta Sicura del maestro Salvatore Francavilla. Ormai siamo a 15 anni di collaborazione del coro San Carlo, quindi è un grande privilegio per noi, accompagnata al pianoforte dal maestro Giorgia Borgacci. Il concerto sarà il 5 gennaio, quindi alle 17, al Salone Metaurense, previa presentazione di Green Pass e prenotazione telefonica composta non obbligatoria.